Mi chiamo Marco Carobbio, ho 18 anni e vengo da Uneta, dall'Alta Valle e relativamente a queste prime due settimane di stage posso dire soltanto che mi sto davvero divertendo moltissimo innanzitutto il divertimento non consiste nel provare piacere dando multe agli utenti della strada ma semplicemente stando a contatto con la gente e soprattutto comprendendo quelli che sono i rischi reali, concreti della strada perché finché vediamo da lontano la figura del vigile come quella persona che dà soltanto fastidio a noi utenti della strada non comprendiamo il vero senso del loro lavoro lo comprendiamo soltanto stando vicino a loro, vedendo come stanno a contatto loro con tutti gli altri utenti della strada e dunque cercando di prevenire tutte quelle situazioni di disagio che possono vivere possono esistere, in questo modo ho realmente compreso come va vissuta la strada pertanto non ci sarebbe modo migliore per me di indicare questo progetto proprio che con il titolo che è stato assegnato di On The Road perché davvero ho compreso sulla strada come ci si comporta su di essa innanzitutto forse non sarà, la web tv non è ancora nazional popolare come la televisione però senz'altro sta a dimostrare ancora una volta come l'impegno che stia dietro questo progetto perché è un qualcosa di innovativo senza ombra di dubbio e soprattutto è importante perché è diretta ai giovani la web tv sicuramente non è conosciuta è prevalentemente conosciuta dai giovani e non da altre persone e quindi soprattutto c'è la volontà di colpire di andare direttamente a toccare i giovani e quelli che hanno la nostra età e che così come noi dunque possono vivere magari nei prossimi anni questa esperienza stupenda